gentili telespettatori buona giornata in arrivo x la previsione di laria capua arriverà dobbiamo prepararci questa malattia quindi x non si intende twitter ma una malattia di cui ne parla la virologa ilaria capua che ne parla a milano in una conferenza è una malattia paventata dall'organizzazione mondiale della sanità l'oms dice anche se guardiamo solo alle pandemie influenzali e non mettiamo altre infezioni nel calderone per quello che sappiamo nell'ultimo secolo dal 1900 al 1999 ce ne sono state tre facendo i conti le pandemie influenzali arrivano ogni 11 40 anni quindi un'altra pandemia ci sarà potrà essere causata da un virus influenzale che è uno dei principali indagati o potrà essere causata da altri virus ma ci sarà e così un'agenzia di stampa italiana contatta ilaria capua e lei spiega quello che proprio dobbiamo fare è prepararci perché se no non possiamo ritenerci homo sapiens ma passiamo direttamente alla categoria homo stupidus la virologa ha poi lanciato l'appello a non dimenticare penso alla fobia delle mascherine io quando ero negli stati uniti avevo le mascherine a casa da sempre perché sapevo che una pandemia sarebbe arrivata e sapevo che quando sarebbe arrivata le mascherine non si sarebbero trovate in effetti è così c'era difficoltà a trovare anche le mascherine non so se vi ricordate soprattutto quelle h 95 quelle che sono più efficaci la capua poi sui tempi di arrivo di questa malattia dice dovremmo essere pronti già domani è chiaro che noi non possiamo sapere quando arriverà ma avere gli strumenti è fondamentale quindi prepararsi non dimenticare e continuare ad applicare comportamenti virtuosi tipo lavarsi le mani e quindi la malattia x si intende un qualcosa che arriverà arriverà presto poi soprattutto l'aumento della popolazione mondiale porta a una riduzione di questi tempi se tra il 1900 e il 1999 ci sono state tre pandemie influenzali e la popolazione oggi è il doppio mediamente il doppio possiamo dire che ce ne saranno almeno 6 6 vuol dire ogni 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 10 15 anni ecco quindi prepararsi ovviamente vedremo quello che succederà speriamo il più tardi possibile perché per il momento prendiamoci diciamo prendiamoci una pausa intanto io vi riacconto che chiara ferragni riappare al cda di tods toccata in fuga dopo molte assenze sapete che lei è nel consiglio di amministrazione di tods ma realmente lei si presentava molto poco intanto tods è pronta a uscire dalla borsa e sono ore frenetiche per il consiglio di amministrazione che vede anche la presenza di chiara ferragni la famiglia della valle ha annunciato di dover e di voler lanciare un'opa volontaria insieme ad altri un fondo statunitense che ha in mano il 3,81 per cento di tods come riferisce il messaggero la nuova OPA dopo quella fallita dell'estate del 2022 sul 36 per cento del capitale sarà lanciata al prezzo di 43 euro il 17,5 per cento in più del valore di venerdì scorso intanto proprio ieri mattina si è riunito il consiglio di amministrazione anche se, riferisce il quotidiano, la maggioranza dei consiglieri era collegata da remoto compresa Chiara Ferragni assente da molte sedute che è stata avvistata sul video per 20 minuti il board è servito a della valle per spiegare la razio dell'operazione soprattutto per coinvolgere i consiglieri indipendenti che dovranno esprimersi sul del listing come prevede il Tuff quindi lei si collega col computer 20 minuti e poi sparisce ma Ferragni non appare nella lista degli otto consiglieri indipendenti visto che un paio di anni fa per l'azienda marchigiana sarebbero venuti meno i requisiti di indipendenza dell'imprenditrice entrata nel consiglio di amministrazione nell'aprile del 2021 il motivo dietro tale cambiamento era il fatto che Ferragni venne retribuita dalla società per una prestazione occasionale di servizi pubblicitari e quindi non può più essere ritenuta super partes nel consiglio di amministrazione nel pieno della bufera Pandoro Gate la moglie di Fedez ora è tornata a farsi vedere nel CDA dell'azienda degli ex proprietari della Fiorentina dato che la sua presenza era esigua e si era portata a casa qualcosa tipo 65.000 euro adesso che la stanno scaricando un po' tutti sponsor e aziende cerca di tenersi stretto quel poco che gli rimane quei pochi soldi perché parliamoci chiaro gli sono arrivati da questo consiglio di amministrazione negli anni 64.000 euro che rispetto alle entrate economiche di questa Ferragni erano pochissima cosa oggi che le aziende la stanno abbandonando anche quello che gli dava la Toz diventa assolutamente interessante perché oggi non so più quali possano essere le entrate economiche di questa famiglia perché la maggioranza la maggior parte delle entrate economiche arriva dagli sponsor se gli sponsor non ti danno i soldi non vai da nessuna parte quando si dice che lei prende 100.000 dollari a post ok non è che lei scrive che bella giornata oggi gli arrivano sul conto corrente 100.000 dollari attenzione quando si dice che lei prende 100.000 euro a post devono essere dei post sponsorizzati lei fa vedere questo quanto è bello questo 100.000 dollari oggi c'è ancora l'azienda che gli dice sponsorizzami questo e poi quei 100.000 dollari valgono ancora oggi dopo i problemi che sta avendo quindi probabilmente il suo il suo onorario crolla e poi crollando appunto devi trovare anche qualche azienda disposta a pagare per fare pubblicità ancora avrà qualcuno che le dà dei soldi per fare la pubblicità però quando la coca cola va via quando vanno via grandi aziende il tuo fatturato sparisce grazie a tutti e arrivederci a presto